Salvare i conti del comune di Pescara dal default? Con questo obiettivo ieri il sindaco Alessandrini, il suo vice e alcuni parlamentari abruzzesi si sono recati a Roma presso il Ministero dell'Economia e Finanza. Un pericolo che sembrava scampato mesi fa quando fu dichiarato il dissesto controllato, oggi invece il quadro si complica. Questi sono i giorni più impegnativi della mia consigliatura perché la questione finanziaria è naturalmente molto molto seria. Mancano all'appello per chiudere questo bilancio 8 milioni di euro che sono una cifra enorme per un comune che già ha provveduto a fare taglie. Dico solo per avere un'idea, nel piano di riequilibrio ne abbiamo previsti 11 milioni nel triennio. Per scalare questa soglia di 8 milioni sono necessarie varie forme di intervento. Dilazionare i pagamenti da 10 anni a 18, questa la proposta. Compiere ulteriori tagli non si sa bene ancora dove e quanto. Spalmare il disavanzo riveniente dal bilancio 2014, che ricordo sono 50 milioni frutto del riaccertamento dei residui, in un lasso di tempo di 28 anni. Ma oltre a questo è necessario altro perché questo vale ad aprire spazi finanziari annuali per circa 700 mila euro. Occorre poi procedere in questa ulteriore direzione, cioè da un lato noi dobbiamo coprire il fatto che ci sono 2 milioni di trasferimenti in meno dallo Stato ai comuni e poi ci sono ancora 5 milioni che ballano. Nel ventaio delle possibilità va anche inserita la peggiore delle ipotesi. Se non si dovessero allineare questi pianeti, lo spettro del default, cioè del fallimento del comune, diviene ingombrante. Comporta un problema per la comunità. Il comune in qualche modo si scinderebbe in una bad company, in una good company. Cioè il passato, la bad company, gestito dal commissario, che oltre a questi problemi con i fornitori dovrebbe effettuare tagli molto pesanti e diciamo l'ordinaria amministrazione affidata alla politica che resterebbe in carica naturalmente con margini operativi a serie stretta. Mercoledì si svolgerà un nuovo incontro a Roma. Entro la fine di maggio si dovrà procedere alla chiusura del bilancio per poter così accedere alla rinegoziazione dei mutui, tempi stretti e tanti forze. Noi dobbiamo sfruttare la possibilità che offre Cassa Depositi e Prestiti di rinegoziare i mutui già rinegoziati. In una parola significa anche qui allungare il debito e diminuire il rateo annuo. Però oltre a questo, che non varrà a coprire i totali 5 milioni, è evidente che saranno necessari dei tagli.